proprio dietro l'angolo nella nostra città insieme a coco oggi bim giocherà no charlie con quello si colpiscono le ginocchia tieni ora di boing 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 bene adesso stai molto meglio ora tocca a me fare l'infermiera e tu farei il paziente oh ok stenditi lì perché sei molto malato posso avere un cerotto no bing puoi avere un cerotto soltanto se ne hai davvero bisogno non si mette in bocca charlie andiamo a cercare qualcosa che puoi mangiare d'accordo andiamo ancora un altro cubo e sarà alta quanto te bing ancora un altro cubo e adesso manca solo il rosso dov'è finito il cubo rosso guarda c'è la charlie non morderlo oh strizzolino lascia il cubo a charlie ecco prendi strizzolino ho bisogno del rosso per il mio arcobaleno ma io ne ho bisogno per finire la mia torre non vuole lasciarlo non lo lascerà mai a meno che tu non lo faccia ridere senti senti charlie se tutti insieme li metterai un bel arcobaleno avrai questo lo farà ridere charlie a charlie piacciono gli scherzi bing ma se vuoi riavere il tuo cubo ci serve qualcosa che lo faccia ridere davvero trovato c'è una cosa che lo fa sempre ridere guarda charlie charlie guarda oh mamma mia la mia torre non l'avevo ancora finita era così alta come me e tu l'hai distrutta ha funzionato abbiamo il cubo e l'arcobaleno è finito e questo non vale hai rovinato il mio arcobaleno ora dovrò farlo di nuovo pensavo stessimo giocando con questi cubi non combattendo io stavo facendo un arcobaleno sì e io stavo facendo una torre e quindi perché non facciamo entrambe le cose ma non si possono fare un arcobaleno e una torre flop non ci sono abbastanza cubi arcobaleno bing che ne dici di costruire una nuova torre insieme oh potremmo fare una torre arcobaleno buona idea coco guarda bing mettiamo il viola qui e poi mettiamo il blu sopra il tuo cubo è il prossimo bing non è come la mia torre flop no non ancora poi azzurro come in un arcobaleno lo so ora verde e poi giallo giallo arancione arancione e poi l'ultimo cubo che è rosso è un arcobaleno proprio perfetto guarda c'è il rosso l'arancione il giallo il verde l'azzurro il blu e il viola guarda flop la nostra torre ora è più alta di me oh buon per te piccolo b ecco io sono un gigante e butterò giù tutte quante queste cose io sono un gigante bene giganti ha smesso di piovere è ora di accompagnare Sula a casa ma ci bagneremo tutti i piedi se usciamo ora oh no per questo abbiamo portato gli stivali da pioggia pronto io mi sono già messo gli stivali dam 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 mi sono un gigante dam 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 sono un gigante ok andiamo usciamo sì va bene piccoli giganti avanti seguitemi flop io non sono piccolo sono un grande grande gigante con grandi grandi stivali e anch'io e adesso distruggerò questo piccolo alberello attento alberello arriva un gigante io distruggerò questa piccola foresta attenta foresta sta arrivando un altro grande gigante pan dam 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 hacet pan dam 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 mamma pan dam 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 bala meccanica pando fermati che c'è? non buttare la sabbia nella mia buca ci serve spazio per l'albere ok oh scusa flop oh ho spallato anche il tuo coniglietto di sabbia si è vero senti cosa devi fare Pando portami qui un po' della tua sabbia e io ne costruirò un altro ok Pando non buttare sabbia nella mia bocca sono una palla meccanica e quello che faccio è spallare la sabbia siamo pronti a piantare l'albero? non ancora la mia bocca non è finita non ho radunato la sabbia necessaria ok continuate ora ci serve un albero flop oh che sciocchino flop tu non sei un albero mi sento un albero e devo essere piantato ok sistema l'albero flop molto meglio dobbiamo spallare la sabbia svelto Bing noi ti abbiamo piantato flop mi sento davvero ben piantato buongiorno questa è la mia bacchetta magica e ti trasformo in una rana e te Bing in un albero perché? perché ho una bacchetta magica tutta scintillante vedi? quindi tu sei un albero non mi hai preso dopo di te grazie flop anch'io posso fare delle magie sei un anatra non sono un anatra Bing tu non puoi fare le magie ma perché no? perché il tuo braccio non è magico come la mia bacchetta vedi? no ci vogliono le scintille per fare le magie adesso musica la regina delle fate canta e balla insieme a me delle fate sono regina e tu sei re se io sono il re delle fate ho bisogno di questa bacchetta magica per favore no no per favore è una parola magica se vuoi puoi avere le ali e fanno le magie no ma che dici? loro non sono scintillanti le ali servono per volare io voglio questa bacchetta no ti prego no è mia ehi ehi cos'è tutto questo fracasso? Sula ha detto che io sono il re delle fate ma non mi fa usare la sua bacchetta magica è la mia bacchetta speciale ed io ci tengo ma certo questa bacchetta appartiene sicuramente a una regina delle fate no oh Sula possiamo vedere se nella tua scatola magica c'è qualcosa di adatto ad un re delle fate? sì devi scegliere qualcosa che ami davvero e ricoprirlo di polverina magica scintillante va bene c'è qualcosa che davvero davvero ami Bing? mi piacciono molto molto i sassi sei fortunato magico re ho tanti bei sassi in balcone andiamo a dare un'occhiata oh io sono molto brava a guardare ok vediamo se si trova qualcosa di adatto per un magico re mi piace veramente molto molto questo sasso qua ma non ha neanche una scintilla magica sopra devi farlo brillare tu con la magia ti faccio vedere Bing questa è la polverina magica posso prenderla io? per favore Sula attento Bing questa polverina è tanto tanto magica appiti appiti vush sì vush anche la mia amica sa fare vush lei può essere Ippoti 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 e appiti ciao Ippoti ciao appiti io sono molto brava a fare vush sto a vedere pronto? Ippoti appiti vush Ippoti sei molto intelligente e molto brava a fare vush grazie ancora Ippoti appiti vush appiti appiti può andare ancora più in alto vush bing devi stare attento va tutto bene appiti è molto coraggioso anche Ippoti lo è Ippoti appiti vush oh no Ippoti povera Ippoti tutto bene ascolta bing tu e Appiti insegnate a Ippoti come si fa povera Ippoti vush 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 sono i miei piccoli preferiti questi? sì loro sono Appiti e Ippoti e facciamo vush lo vedo guarda Amma Ippoti 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 vush Ippoti 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 non è brava a fare vush come lo è Ippoti forse ha solo bisogno di un po' più di pratica Ippoti 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 andiamo dai scelti ehi piccoli rumorosi dobbiamo prendere Ippoti Ippoti sì sì certo è troppo in alto non riuscite a prenderlo da soli no puoi aiutarci per favore Amma? certo che posso pronti? sì Ippoti 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 entrate e Ippoti 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 non spaventare Ballabaloo lui è piccolino ok andiamo di sopra permesso vieni Ippoti vieni Ballabaloo Ippoti qualcuno vuole conoscerti Hopiti dice è un vero piacere Ippoti piacere mio Hopiti Ballabaloo sta dicendo che gli piacciono molto le tue ali Ippoti fush bing scusa possiamo dare una festa e tu sei invitato e anche tu sei invitato sta dicendo di sì torta buona prima si deve preparare il tavolo per la merenda sediti qui Hopiti prendi questi grazie Sola posso avere quel piatto tieni Pando Bing non puoi metterti lì ci devo stare io perché Ippoti deve badare a Ballabaloo lui è piccolino la torta aspettate un momento prima dovete bere una tazza di tè tieni Hopiti davvero delizioso ma se ancora non l'ho versato ecco per te e anche per te e un po' per me è squisilizioso squisilizioso oh una fetta di torta per Ballabaloo dice ti ringrazio nom 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 Hopiti vuole un po' di torta beh deve sedersi con posto Bing ok questa è per te Hopiti oh ti ringrazio nom 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 e una fetta per me nom 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 è una torta molto buona Flop abbiamo una patata si chiama Nasuta ciao Nasuta sembra una patata molto felice lo è ci stiamo occupando di lei facciamole vedere la casa Bing ti piacerà qui Nasuta abbiamo anche lo scivolo ecco qua grazie Flop andiamo Nasuta questo è troppo largo Sula potrebbe cadere oh a Nasuta serve un passeggino sì questo qui Bing ecco qua Nasuta questo è il tuo passeggino questo qua è il bagno devi fare il pipì Nasuta no grazie l'ho già fatta non preoccuparti oh ma ho fame oh dai prepariamo un tè andiamo Nasuta sì nasuta siediti per bere scusa ecco il tuo tabbing e il latte per te Nasuta cosa mangiano le patate Sula? broccoli e torta al cioccolato grazie Sula ora lei vuole giocare a che cosa giochiamo? oh lo scivola ma è troppo piccola potrebbe aver paura Bing ci vado io con lei le piace Sula tocchi a me ok vieni da me Nasuta le piace proprio ah molto meglio ah ma ci serve un altro paziente beh vediamo un po' a chi serve un infermiere qui? sapete credo che ormai abbiate già curato tutti possiamo dare un'occhiata lì dentro? ci sono solo giochi da esterno qui dentro ma forse qualcuno di loro avrà bisogno di cure vediamo un po' che cosa state aspettando voi due? Amma ci sta cercando nuovi pazienti facciamo gli infermieri che cos'è? purtroppo qui non ci sono pazienti per voi ma oh possiamo vedere Amma ti prendi? ok che bello un taxi esatto un taxi molto rumoroso ciao sono il taxi parlante salta su oh sa parlare Bing si sa parlare e parla parla non voglio più giocare agli infermieri giochiamo con il taxi parlante ok Bing andiamo aspetta ti spingo io in giardino si va fuori ora ti spingo io pip 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 più veloce ciao sono il taxi parlante salta su sono già su non lo vedi? ciao sono il taxi parlante salta su ma io sono già su hai confusione taxi parlante lasciami provare Bing ciao sono il taxi parlante andiamo a farci un giro ok forza su l'ho ha detto se ci facciamo un giro posso salirci io Bing ok io ti spingo ciao sono il taxi parlante oh che sporcizia ti devi lavare possiamo lavare il taxi parlante laggiù con l'innaffiatoio d'accordo ora basta Bing beh è una cosa molto speciale guarda è un arcobaleno si Bing ha tutti i colori dell'arcobaleno ok chi è pronto per essere un esploratore della natura? io tranquilli ognuno avrà il suo turno chi comincia flop? vediamo oh flop Sula tocca a te sì oh Sula e poi toccherà a Coco a Pam oh a me e chiuderemo il giro con te Bing oh coraggio gira la ruota Sula sì dove mai si fermerà? guardate ciao Sula sei la prima esploratrice della natura devi cercare attentamente e trovare qualcosa di giallo un dente di leone è perfetto posso raccoglierlo? sì Sula certo i denti di leone si possono raccogliere un dente di leone sono un esploratrice della natura esploratrice della natura tocca a me credo proprio che adesso uscirà il viola oh no rosso devi trovare qualcosa di rosso Coco rosso 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 ho trovato la mia cosa rossa preferita in tutto il mondo che cos'è il Coco? che cos'è? ma è verde non la foglia sciocchino tadaaa oh guardate è una cucinella è così piccola le cucinelle sono le mie preferite ci vediamo cucinella ciao ciao cucinella ciao ciao oh adesso tocca a me arancione adesso dovrei trovare una cosa arancione io so dov'è una cosa arancione vieni Pando ok sono dei fiori? no è questo oh arancione guardate che cosa ho trovato è un sassolino molto bene bravo si allora chi è il nostro prossimo esploratore della natura? io viola è uscito il viola lo volevo io il viola oh lì oh attento Bing questo è un cardo ah un cardo gli esploratori devono guardare da vicino vedi ha delle grosse spine flotta esattamente ma come faccio a prenderlo? devo portarlo ad Amma che ne dici di questo? oh grazie mille Flop Amma Amma si ho trovato il viola cosa ha trovato Bing? sono un esploratore della natura che cos'è? è un cardo è il suo fiore è viola e ha le spine vedete? molto intelligente ed è tutto viola beh meno male che non l'hai toccato Bing già nove dieci pronti o no io verrò sulla trovata e ora vi sto venendo a cercare Coco ti troverà subito Bing hai sentito Sula? non sono sicura quel rumore veniva da dietro il divano oppure da questa cesta dalla cesta pando ti ho trovato no avevo detto dalla cesta ne è rimasto uno solo dov'è il nostro coniglietto? aha sto venendo a prenderti Bing ti ho trovato ho vinto ho vinto io oh molto bene Bing dopo conterai tu ora però vai 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 senti tu adesso dai giochiamo ancora prima Bing deve andare a fare la pipì oh 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 non importa Bing non fa niente posso vedere? scusa Amma non sono riuscito a trattenerla oh ci hai provato ma non ci sei riuscito va tutto bene Bing alzi la mano chi non ce l'ha fatta a trattenerla qualche volta uff uff io mai da quando sono cresciuta bene e Bing cosa farai la prossima volta che ti scapperà la pipì mentre giochi? ciuff ciuff esatto smetteremo di giocare per andare in bagno molto bene piccolo Bing ora dove possiamo trovare dei vestiti asciutti? io lo so nella nostra cesta delle case perse Bing guarda qua oh delle mutandine grazie Sula risolto benissimo mutandine asciutte mutandine vai Pando i mutande ho vinto io è vero oh sono Sula Cocco e Charlie aspetta mi nascondo pronto? sì ciao Flop ciao Cocco ciao Sula ciao Charlie ti vedo pieno di energia non vedi l'ora di scendere dal passeggino dov'è Bing? Bing dove sei finito? sono qui nella mia casetta posso entrare Bing è come il gioco dei tre porcellini mi piace tantissimo conosco quel gioco piccola Bing piccola Bing mi fai entrare? no brutto lupo cattivo tu non puoi entrare allora noi due soffieremo e sbufferemo e spazzeremo via la tua casetta non potete questa è una casetta di mattoni ed è molto molto resistente oh perché non giochiamo i tre porcellini? questa è un'ottima idea Sula posso farlo io il brutto lupo cattivo? ok Sula andrai nella casetta di paia vieni Charlie ok io andrò nella casetta di asti di legno io sono il brutto lupo cattivo devi essere più spaventoso di così Bing così dovrebbe andare Charlie Charlie vuole giocare con noi che cosa può fare? Charlie può stare lì nella casetta di mattoni sì oh lo so questo è da lupo oh è vero sì dammi ti aiuto io Sula devi costruirti la casetta di paglia oh sì Sula questa può essere una casetta di paglia oh sì grazie piccola Sula piccola Sula fammi entrare no brutto lupo cattivo tu non puoi entrare allora soffierò e sbufferò e spazzerò via la tua casetta la tua casetta la tua casetta oh lupo cattivo sta venendo a prendermi aiutatemi vengo a prenderti Sula svelta piccola Sula nella mia casetta di legno aiuto piccola Coco aiutami piccola Coco piccola Sula fatemi entrare no no lupo cattivo non puoi entrare non puoi entrare allora soffierò e sbufferò e spazzerò via la vostra casetta così va meglio un'altra cosa importante se davvero vuoi fare un grande bu devi essere molto silenzioso tipo così e poi se sei molto silenzioso puoi fare quindi ricordati non ti vedono non ti sentono e poi bu non ti vedo non ti vedo non ti sento non bu visto? è così che si fa un vero grande bu guarda Bing il puzzle è fatto l'ho finito voglio andare a fare un grande bu a flop va bene facciamoli insieme un grande bu a flop ma Bing Coco dove siete? ma mi chiedo dove siano finiti mi avete spaventato hai avuto paura flop hai avuto paura Harry davvero molto buffo quando hai fatto è stato veramente un bel bu anche il puzzle è saltato per aria è stato davvero un bel bu ancora ancora prima fa che brava macchinina flop e poi fa quindi e poi e ora tocca alla rossa non morderla Charlie non morderla Charlie 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 sembra che anche Charlie voglia giocare ma è troppo piccolo allora ci serve un gioco adatto a Charlie sì tieni Charlie gioca con queste verdure è pronta la rossa eccola là vai 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 no Charlie macchina qua e carota là non è una macchina è una carota qual è la prossima bingo è quella azzurra è tua flop ok Charlie qui ci vanno le macchine non ci vanno le patate Charlie vuole parcheggiare quella patata ma non è una macchina è solo una patata patata guarda Charlie le patate vanno qui tutto a posto bingo sì ancora ma c'è comincia tu con i baci buonanotte Coco grazie Bing ma non devi baciare me devi baciare Hoppity e le topoline arcobaleno buonanotte Hoppity tocca a te buonanotte Hoppity tocca a te Flop va bene buonanotte Hoppity ora baciamo le topoline arcobaleno buonanotte Violetta tocca a te ora Bing buonanotte Violetta buonanotte Scarlett buonanotte Oni buonanotte topoline arcobaleno Bing non l'hai fatto con ognuna di loro sì che l'ho fatto buonanotte a tutti voi ci racconti la favola ora? certo oh posso avere un po' d'acqua della buonanotte per favore Flop? ok voi due andate a letto e mettetevi sotto le coperte io torno con l'acqua spostati un po' Bing non ho abbastanza spazio hai i piedi freddi hai un sacco di spazio Bing dobbiamo accendere la mia lucetta gufo ora aspetta spegni la luce ti faccio vedere il potere speciale di Amber ma io voglio accendere la mia lucetta gufo ma ti piacerà ecco tienila tu ok pronto? sì guarda adesso non mi piace perché no Bing? è tutto buio accendi la luce premi il bottone perché è così buio qui? Coco ha fatto tutto buio deve essere buio perché deve essere buio Flop? beh io voglio la mia lucetta gufo accesa Coco possiamo farlo in entrambi i modi sì però non vedresti bene quello che può fare Amber ho capito quella luce spenta la vedresti molto meglio ti va bene Bing? ok ma solo per un pochino va bene come è luminosa è bellissima visto? ti l'avevo detto che era molto bella Amber è la mia luce notturna Auli è la mia luce notturna è un gufo Flop teniamoci se tutte e due le nostre luci certo ora chi è pronto per la favola? io io ok tanto tempo fa Hoppy Teebush incontrò una topolina magica grazie a tutti